Marco Mancoso si avvicina a questo derby con il Benevento, una partita importante chiaramente per la Casertana, in chiave playoff, in chiave Serie B sarà uno spettacolo? Sì sicuramente, sarà una bella cornice di pubblico, poi due squadre che stanno facendo un grande campionato e quindi sarà sicuramente una bellissima partita da vedere. Si parla di Mancoso, ovviamente la domanda è sul Benevento, tanti fischi all'andata, adesso ti aspetti magari di segnare un gol? No, magari, però assolutamente non porto rancore, non sono stato il primo a essere fischiato, non sarò l'ultimo, quindi fa parte del gioco. Spero, spero sinceramente di far gol anche perché è importante per noi magari dare una mano alla squadra, per me perché stiamo facendo veramente un grande campionato e ce lo meritiamo. Senti, questo Benevento che squadra è? Una squadra che ovviamente lotta per la promozione ma dal punto di vista tecnico è secondo te la più forte? Sì, se la gioca, diciamo se la gioca con la Sernitana, comunque hanno grandissimi organici, con Lecce comunque anche, perché comunque Lecce ha costituito una squadra che non sta facendo un grande campionato ma solo per i nomi che ha preso. Hanno grandissimi calciatori di anche serie superiore e sicuramente sarà una battaglia. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni venerdì perché è una partita questa che per voi significa tanto in chiave playoff? Sì, sì, come ho detto prima, speriamo che venga tanta gente perché in casa soprattutto abbiamo steccato poche volte quindi anche in merito del nostro pubblico che ci dà un apporto in più. Hai segnato con la Lupa Roma, esultanza ovviamente per tua figlia e se segni col Benevento esulti? Sono molto istintivo però di certo non la vedrei come una mancanza di rispetto, assolutamente. Ora gioco per la Casertana, se devo esultare per la Casertana esulterò.